Tre segni che per un uomo sei una svuota palline da tennis. Allora, il primo segno è che ti invita sempre all'ultimo, senza pianificare nulla, e ti invita, diciamo, direttamente al parcheggio del cimitero oppure in posti assimilabili, diciamo. Il secondo segno è che quando tu gli parli, gli parli qualcosa, manco si ricorda quello che gli dici, dopo un po' di tempo si dimentica, lo vedi distratto, pensieroso, guardi in alto, sbadiglia, non gli frega niente di te. Il terzo segno è che praticamente ti tiene all'oscuro esattamente di tutto quello che fa e, diciamo, quando ti racconta qualcosa puoi capire facilmente che sono solo, come dire, delle frottole per darti un minimo di contentino. Metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti. Ciao a tutti.